Ma tu te lo ricordavi che esiste un film di Final Fantasy? Stanno arrivando! Spara nella bocca! Anzi, non un film, il film, visto che si chiama proprio Final Fantasy. Tra l'altro questo film è stato prodotto da Square e Sony, quindi è una roba ufficiale, seria, non un progettino così. Se sei tipo... non avevo mai sentito una roba del genere, ancora ancora mi ricordo il film di Final Fantasy VII, Advent Children, ancora ancora quello di Final Fantasy XV, Kingslave, beh allora questo video è per te. Se invece stai pensando, ah sì, mi ricordo, l'ho visto, l'ho fittato in DVD, fittato il DVD... Ma ti rendi conto di che parole stai usando? Di che concetti arcaici, vecchi, preistorici stai menzionando? Sei vecchio. Sei vecchio. Sei vecchio. Sei vecchio.